e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide dell'ultimo blocco di missioni di questa season 1 di fortnite dobbiamo distruggere un telescopio una televisione e un palo del telefono non è assolutamente difficile si trovano tutte nella stessa città e per la precisione a siepi da grifoglio nella casa più esterna quella come vedete a destra c'è al primo piano il telescopio quindi lo distruggiamo usciamo dalla casa stando ovviamente attenti se siamo allo start agli avversari ed entriamo nella casa qua di fronte come vedete proprio al piano terra c'è la televisione da distruggere per chiudere e finire in bellezza con il palo del telefono conviene fare un giro un pochettino più largo però se non ricordo male da destra e raggiungere praticamente la strada che vi ho appena pingato quella asfaltata insomma quella che collega le città per correttezza ve la faccio vedere vi ricordo che le sfide che stiamo affrontando ci daranno uno stile aggiuntivo della skin chic insomma la colorazione viola davanti a me la strada asfaltata cecchino in mano proviamo a fare in un colpo solo anche il palo del telefono dovremmo iniziare a vederli tra poco mi stanno sparacchiando ovviamente non avevo dubbi che succedesse questa cosa sappiamo tutti che siamo i migliori amici degli stream sniper comunque ragazzi come vedete i pali del telefono sono anche molto frequenti da trovare vicino a sepi da grifoglio noi non gli daremo la soddisfazione di killarci quindi io già vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollice in su iscrivetevi ai canali questo e quello sulla piattaforma viola noi siamo sempre in live ciao